muovendo tutta la parte ma ragionando solo su quella piccola parte, quindi devi fare una modifica singola in un determinato punto, tipo qua lo vuoi stringere come ho fatto vedere prima, eccolo qua, questo è lo strumento giusto, vai a lavorare solamente in maniera selettiva su quella parte, ok? Quindi è una modifica di fino, stai attento perché mentre il primo si basa sull'algoritmo che fa in automatico il movimento di tutta quella parte, quindi c'è un minor margine d'errore, in questo caso il margine d'errore è maggiore, devi andare un attimino con più attenzione perché ti va a muovere una porzione più stretta e puoi creare delle asimmetrie o comunque delle linee, delle modifiche poco armoniche. Trascina, semplice, lo dice la parola, per ogni strumento poi puoi modificare la grandezza e l'intensità dello strumento, quando tu ingrandisci e rimpicciolisci vedi il cursore in un punto campione al centro dello schermo che si ingrandisce, si rimpicciolisce e poi sparisce. Il trascina non è nient'altro che non tengo in considerazione l'algoritmo, quindi tutti i punti che ho segnato, ma faccio un fluidifica come potrei fare in Photoshop, quindi questa è la versione proprio più manuale. Ho fatto bene a mettere dentro questa funzione perché chi si trova bene, chi magari sa già usare fluidifica o comunque, se anche non lo sai usare ma vuoi fare una modifica di fino senza per forza di cose avere l'aiuto dell'automatismo, allora lo puoi fare anche da qua, ok? In modo molto molto manuale, tipo vedi...